Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento, spazio di approfondimento elettorale. Anche questa sera approfondiamo alcune tematiche che saranno quelle sulle quali sarà imperniata la competizione in quest'ultima settimana prima del ballettaggio di domenica. Lo facciamo come argomentazione insieme ad una dei due protagonisti di questo voto di domenica, Lucia Tarsi che concorre alla poltrona di sindaco. Ben ritrovata, benvenuta ancora. Grazie ancora, è sempre un piacere star qui a chiacchierare con Lino che è un conviviale molto gradevole. Ormai abbiamo fatto salotto, facciamo salotto. Bene, allora insomma una settimana molto densa, tanti incontri, tutti quanti siete impegnati nell'avere dei contatti con l'elettorato e con gli aspetti vari della società fanese importanti. Che cosa ha portato tutto questo periodo nella vita di Lucia Tarsi? Beh sicuramente ha portato il sapore di una grande sfida. Io sono una persona normale, sono una mamma, sono una moglie, sono una donna che lavora. Ho fatto nella mia vita sempre scelte importanti. Le scelte più significative sono quelle che sono partite da una sfida e quindi da un gesto di coraggio ad affrontare qualcosa che mi potesse entusiasmare, che potesse muovere le mie corde emotive e che fosse legato anche al mio amore e ai miei sentimenti. Come mamma ho fatto la scelta di essere mamma e sono ora mamma di due ragazze adolescenti, quindi conosco la realtà degli adolescenti. Come insegnante ci vivo e quindi il mondo dei giovani per me è un mondo sicuramente affascinante, un mondo che soprattutto mi coinvolge, mi cattura e mi ha spinto a fare questa scelta. Io non sono sempre stato un'insegnante perché subito dopo la laurea ho deciso di lavorare nella grande azienda e ho lavorato a Leni e questo poi è diventato per me comunque un substrato anche culturale e anche professionale molto importante. E poi ho fatto la scelta di ritornare a Fano perché Fano è la mia città, io Fano ce l'ho nel cuore e Fano è per me il luogo ideale in cui costruire una famiglia, in cui far crescere dei figli, in cui avere comunque delle bellissime relazioni e quindi questa scelta della mia vita qui avrei potuto forse fare una carriera altrove di chissà quale livello. La scelta della mia vita qui è diventata oggi una scelta spendibile per la mia città e per le persone a cui voglio bene e quindi tutto quello che ho fatto in questi mesi l'ho fatto veramente con il cuore leggero e accompagnata dall'entusiasmo di tanti amici che hanno voluto condividere con me questa passione, questo amore, questa voglia di riportare a Fano il sole, la bellezza, il divertimento, la vitalità, ecco quindi sono stati mesi impegnativi ma sicuramente molto belli e arrivo molto carica quello che sarà spero l'impegno da lunedì mattina in poi. Ecco quindi quando la coalizione di centro-destra si è così saldata sul suo nome, insomma questa investitura le ha dato forza, coraggio di dire allora per Fano posso fare qualcosa? Per Fano posso fare qualcosa, metto a disposizione la mia competenza, la mia esperienza, metto a disposizione anche in qualche modo la rete dei miei amici e delle persone che collaborano con me, che hanno sicuramente competenze, abilità complementari alle mie, io non sono un tuttologo, non posso dire che conosco tutto di tutto. Ecco laddove posso mettermi in gioco lo faccio, quando vedo che ci sono temi che devono essere comunque approfonditi mi faccio accompagnare da chi meglio di me conosce il tema e quindi nella collaborazione soprattutto nella capacità di lavorare in team, in gruppo, bene lì si ottengono i risultati migliori, sempre tenendo comunque presente che per ottenere un risultato bisogna aver chiari gli obiettivi, bisogna aver chiari il programma, bisogna saper progettare, ecco queste sono comunque le dinamiche che mi vengono dalla cultura aziendale e che vanno comunque spese in ogni settore, la visione della realtà deve essere una visione di sistema, non può essere una visione a comparti stagni particolareggiata, quindi ecco questo è il mio modello di lavoro che voglio portare anche per la città. Quindi non un uomo solo al comando, una donna solo al comando, ma un team, una squadra che lavora per la comunità. Collaborazione, organizzazione, competenze, meriti, questi sono temi molto importanti, un modello di lavoro che deve assolutamente coinvolgere la città, non deve lavorare sulla città, deve coinvolgere la città, la città siamo noi e dobbiamo insieme progettare il nostro futuro, perché amiamo la nostra città e la vogliamo vedere crescere, la vogliamo vedere sempre più bella, sempre più vitale, sempre più moderna. Quindi nella sua visione così di città c'è un cittadino che sia protagonista delle proprie scelte, delle scelte che vengono fatte sulla sua quotidianità. Sì, noi siamo i cittadini, i cittadini siamo noi, quindi noi decidiamo per la nostra città e nella decisione dobbiamo sicuramente mettere in gioco una serie di dinamiche. Con partecipare è sicuramente molto importante, le decisioni non devono calarci dall'alto, come troppe volte è successo. Le decisioni le dobbiamo prendere insieme e poi dobbiamo agire chiaramente non in maniera improvvisata, non in maniera raffazzonata, non in maniera casuale, così come può succedere andare sempre incontro alla risoluzione delle emergenze improvvise. No, dobbiamo essere programmatici e dobbiamo guardare ad un futuro lontano. Non possiamo lavorare sul breve o sul medio termine, noi dobbiamo avere obiettivi sul lungo termine. Ci sono anche quelli sul breve, chiaro, ma quelli sono ordinaria amministrazione. Le nostre idee invece devono poter guardare lontano. Quindi una progettualità che non si improvvisa, perché l'improvvisazione alle volte va bene, ma non in questi ambiti. Il suo impegno per la città parte un po' lungo, diciamo che la sanità è stata sicuramente una di quelle tematiche che l'hanno coinvolta e appassionata di più. Beh, sì, certamente. Quando si parla di sanità si muovono le mie corde più profonde, perché da lì nasce il mio impegno civico. Sanità perché per me la difesa dei diritti di tutti, soprattutto delle persone più fragili, è nel cuore di un concetto di comunità. Una sanità che sia di qualità e che sia una sanità pubblica, cioè accessibile a tutti, per me è l'obiettivo principale. In questi anni abbiamo visto il nostro ospedale progressivamente svuotato. È di pochi giorni fa l'intervento del nuovo sindaco di Pesaro, anzi del sindaco riconfermato a Pesaro, al sindaco Ricci, che ha detto subito nella sua prima conferenza stampa mi attiverò sulla regione per velocizzare, per iniziare quanto prima il processo di costruzione del nuovo ospedale, che io ripeto non è l'ospedale unico, ma è l'ospedale nuovo di Pesaro. Ecco, qualora l'ospedale nuovo di Pesaro dovesse davvero cominciare ad essere costruito, sappiamo bene che avremo un impegno di spesa a livello regionale, quindi che ricadrà su di noi di un miliardo di euro nei prossimi trent'anni e sappiamo bene che quando sarà concluso il nostro ospedale, grazie a quel protocollo infame che è stato firmato dal sindaco Seri, il nostro ospedale si ridurrà ad essere semplicemente un poliambulatorio. Quindi la fine del nostro ospedale, inteso in quanto ospedale, cioè dotato di reparti, è vicina perché quando sarà finito l'ospedale nuovo di Pesaro, l'ospedale di Fano rimarrà un grande poliambulatorio. Le carte cantano e quindi non occorre neanche poi costruire delle fantasie. L'ospedale di Fano in questo momento è soltanto un ricordo di ciò che era dieci anni fa, bene, ma anche ciò che è rimasto ora purtroppo verrà progressivamente smantellato sempre a vantaggio dell'ospedale San Salvatore o successivamente dell'ospedale nuovo di Pesaro. Questo è ciò che noi non vogliamo. Noi vogliamo che una vallata come quella del Metauro, che ha una popolazione assolutamente importante di più di 130.000 persone, abbia la dignità e la possibilità di curarsi in un ospedale vicino e che non debba assolutamente rinunciare alla qualità di un servizio che è un servizio che deve stare vicino al cittadino e deve essere comunque un servizio di qualità. Non possiamo rinunciare a tutto questo. Io mi batterò perché Fano possa rimanere una città importante che possa soddisfare il suo ruolo di città capofila di un'intera vallata e possa avere un suo ospedale, come ha avuto per decenni. Si dirà che il problema della sanità è un problema regionale, è vero che le decisioni vengono prese ad Ancona, contiamo anche che ad Ancona il prossimo anno le cose possano cambiare nella direzione della regione, ma per il momento le decisioni prese ad Ancona possono comunque essere frenate da un sindaco che ad Ancona non è ma che è a Fano e quindi io farò di tutto per elaborare qualunque processo possa portare ad un rallentamento di questa idea dell'ospedale nuovo di Pesano e possa invece rafforzare l'ospedale di Fano. Quindi quello di domenica sarà un voto per il ballottaggio o sarà un referendum sulla sanità? Quello di domenica sarà non un ballottaggio ma sarà un referendum, sicuramente. Sarà un referendum tra chi vuole l'ospedale nuovo a Pesaro e vuole vedere finire l'ospedale di Fano con un poliambulatorio e chi invece come noi vuole una sanità pubblica di qualità vicino al cittadino. Ripeto, per Fano ma non solo per Fano, per Fano e per la sua vallata. L'estate, insomma, alle porte come si dice la diminuzione o gli accorpamenti dei servizi sanitari durante il periodo estivo rappresenta un problema e rappresenta un problema soprattutto per alcune fasce deboli deboli della nostra società, tra cui viene da pensare subito agli anziani. Il tema anziani, tra l'altro, sì, stavamo pensando qualche giorno fa è stato assolutamente poco discusso durante questa campagna elettorale. Tutti i temi sociali sono stati poco trattati ma in realtà sono i temi che ci interessano, che interessano a noi cittadini. Sono i temi principali. Se poi si parla di anziani, io in queste settimane, in questi mesi ne ho incontrati tanti. Ho ascoltato molto i suggerimenti, le cose che avevano da raccontarmi. Gli anziani hanno piacere di essere ascoltati perché hanno molto da raccontare. Gli anziani sono le nostre origini ma gli anziani sono anche i nostri valori sono il rispetto delle regole sono persone che hanno lavorato a volte per una vita per ottenere in cambio di poter avere adesso finalmente una situazione e una vita serena ma spesso purtroppo hanno accanto famiglie, figli, nipoti disoccupati e quindi sono gli anziani che si devono occupare di mantenere l'intera famiglia. Quindi i nostri anziani spesso, tra l'altro, in buona salute e quindi con una bella vitalità, vanno assolutamente ascoltati per le loro richieste. Qualcuno mi ha fatto anche proposte veramente simpatiche e interessanti. L'anziano che ha la pensione sociale e che vorrebbe poter mantenersi il suo cuccio, il suo cagnolino come ha sempre fatto per una vita e non può farlo perché non se lo può permettere. La signora anziana che avrebbe piacere di andare al mare ma non può permettersi l'ombrellone ecco allora, noi dovremmo intervenire anche sui bagnini che abbiano voglia in qualche modo di mettersi a disposizione con degli ombrelloni a prezzi agevolati per esempio per poter permettere a queste persone di passare una mattina in spiaggia o semplicemente di sedersi sotto l'ombrellone a fare delle chiacchiere. I club anziani ci sono, ce ne sono alcuni che funzionano veramente in maniera divina fanno delle bellissime attività sono degli strumenti di aggregazione molto importanti vanno assolutamente protetti sostenuti e tutelati ci sono invece dei quartieri dove l'anziano è un po' abbandonato a se stesso rimane dentro casa non ci sono spazi di aggregazione lì bisogna andare a lavorare a volte basta semplicemente una cosa semplice basta una panchina sotto una bella pianta se pensiamo alla confraternita del fico mi è venuta subito il mente basta una bella panchina dove le persone si raccolgono di pomeriggio fanno le loro chiacchiere è un modo per abbattere il problema della solitudine ed è anche un modo comunque per tenersi vitali gli anziani per strada fanno presidio sul territorio gli anziani per strada sono comunque un buon modo per insegnare ai nostri giovani le regole di vita le regole, i valori i valori legati ad una cultura di tradizioni che è una fanesitudine importante i valori legati all'onestà alla coerenza al rispetto delle regole sono tutti i valori che gli nostri anziani possono assolutamente trasvenire anche semplicemente con il loro modo di esserci gli anziani veri ammortizzatori sociali della nostra società perché tappano un po' tutti i buchi sia quelli economici quelli da educatori assolutamente sì beati i nonni beati chi ha i nonni beati le mamme che hanno i nonni a casa allora il mare l'ombrellone non sarebbe male carina come idea perché poi dopo ci sono i bambini al mare e anziani e bambini si sa che è un binomio eccezionale però il turismo quello insomma un po' che viene da fuori non solo quello endogeno quello anche esogeno avrebbe bisogno di stimoli e di opportunità assolutamente tutta la zona mare è assolutamente da riqualificare il turismo per noi diventerà una voce fondamentale della nostra economia il turismo è per noi la linfa vitale quindi abbiamo bisogno di potenziare ma non solo quello estivo legato alla zona mare quello è sicuramente una voce importante da lì si può ripartire Lido e Sassonia sono attualmente in condizioni devastate se poi guardiamo il Lido figuriamoci abbiamo bisogno di potenziare abbiamo bisogno di dare nuova linfa anche agli albergatori che devono poter ritornare a lavorare con serenità e quindi investire sulle loro strutture quindi in piano particolarizzato della zona mare ma noi abbiamo bisogno di pensare anche a un turismo tutto l'anno quindi come possiamo intervenire? Sicuramente lo sport può darci una mano lo sport che diventa il volano di un turismo tutto l'anno e per farciò abbiamo bisogno di ristrutturare le strutture sportive esistenti ma soprattutto di pensare alla costruzione del nuovo palasport abbiamo bisogno di un nuovo palasport e noi ci impegniamo a realizzarlo quanto prima sarà uno dei punti principali ecco questo lo posso dire sul medio termine non sul lungo assolutamente di questa cosa siamo sicuri quando penso poi alla zona mare io insomma ci sono cresciuta al mare la mia nonna stava al porto quindi io d'estate passavo tutta la stagione lì ed inverno ci andavo a fare i compiti quindi per me la zona mare è una zona assolutamente conosciuta conosco le persone che ci lavorano che ci vivono so bene quali sono i loro problemi hanno anche loro una serie, una quantità di problemi a partire da quello annuso storico del dragaggio che di nuovo è vero che non è un problema locale ma regionale però ci vuole assolutamente un intervento che sia definitivo una capacità di programmazione definitiva perché anche il dragaggio fatto l'anno scorso poi alla fine si è risolto in un nulla di fatto tocca ricominciare da capo quindi sostegno la marineria sostegno la cantieristica sostegno alla marina di porto sono tutte voci importanti il porto è una porta d'ingresso così come l'aeroporto è una porta d'ingresso non possiamo curare solo l'arco d'Augusto e dimenticarci delle altre porte d'ingresso della città assolutamente questo è un nostro impegno quindi diverse sono le porte d'ingresso nella nostra città insomma al di là delle direttrici stradali importante cercare di trovare una giusta collocazione e sviluppo per tutte quante quindi il voto di domenica, il ballottaggio è un voto inteso anche in questo senso con due idee di città molto diverse il ballottaggio di domenica è diventato ormai un referendum tra due modi diversi di vedere la città da una parte il centro-sinistra che vuole a tutti i costi un nuovo ospedale a Pesaro e dall'altra parte noi che invece vogliamo una sanità di qualità e di prossimità vicina alla gente pubblica, che rimanga pubblica ma che continua ad essere di qualità per Fano e per l'intera vallata un referendum tra chi vorrebbe costruire a Fano un unico digestore un impianto di trattamento dei rifiuti per tutta la provincia e invece dall'altra parte noi che vogliamo assolutamente che gli impianti di trattamento rifiuti siano cittadini perché le caratteristiche economiche possono permettere di sostenerli non abbiamo bisogno di un unico impianto a Fano di trattamento dei rifiuti della provincia è un referendum tra chi vuole vedere come noi una città autonoma capace di prendere le decisioni per se stessa una città che vuole crescere che vuole diventare europea che vuole diventare una città moderna e dall'altra parte invece una città che si accontenta una città che si accontenta di essere suddita di Pesaro e nel tempo di diventare una frazione di Pesaro ecco questa cosa a noi assolutamente non piace per questo continuiamo a dire che domenica il voto non sarà un ballottaggio ma un referente un tra due modi di vedere la città un modo il mio il nostro di vedere la città con un amore un'attenzione speciale che diventa un valore importante su cui poter costruire un'idea di comunità noi siamo disponibili a lavorare per la nostra città e insieme a tutte le persone che crederanno al nostro progetto noi potremo far tornare Fano bella come l'abbiamo conosciuta quando eravamo più giovani la potremo far tornare dinamica vitale moderna una città europea un amore per la città che diventa un grande valore ecco questo è il nostro obiettivo bene chiarissimi i motivi per cui votarla domenica e insomma attenderemo appunto il risultato il risponso delle urne sì assolutamente sì tanto adesso da qui a domenica abbiamo ancora giornate di impegno giornate di incontri continuiamo a vederci con le persone a confrontarci a prendere altri suggerimenti altri spunti e andiamo verso domenica con un grande ottimismo perché insomma le persone ci stanno dando delle conferme molto importanti bene grazie per essere stata qui questa sera con noi grazie a voi grazie sempre come sempre grazie a tutte le persone che hanno la pazienza di ascoltarmi benissimo grazie anche a voi per essere stati insieme a noi in questo approfondimento e quindi non mi rimane altro che augurarvi buona serata e arrivederci ai prossimi appuntamenti arrivederci buona serata a tutti grazie 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 a tutti.